Un libro sui miti del nostro tempo perché la gente oggi pensa molto poco, pensare poco significa affidarsi a delle idee generali o a delle idee individuali diffuse, solitamente tranquillizzanti e quindi vivere in un modo acritico all'interno di queste coperture e all'interno di queste protezioni, però il problema è che questi miti, tanto enfatizzati sia quelli individuali sia quelli collettivi, forse non sono luoghi di verità e soprattutto la loro funzione è quella di evitare la problematizzazione di ciò che esiste, della vita che si conduce, sia quella individuale sia quella generale e collettiva e allora questi miti vanno un pochino demitizzati, non si tratta di farsi miti, non possiamo dire che l'amore materno non esiste o che il mercato è una cosa sbagliata, ma certamente non appena vengono assolutizzati questi miti diventano molto pericolosi, sappiamo benissimo per esempio che le madri amano i figli ma li odiano anche, sappiamo anche che la crescita non può essere infinita, sappiamo che la tecnica ci conforta, ci sorregge, forse non potremmo noi occidentali vivere senza tecnica ma guai a mitizzare questo scenario e allora è un'operazione di demitizzazione in maniera tale da creare quel minimo di insicurezza che so che è ciò che la gente non desidera, ma è anche la prima condizione per essere uomini e per creare anche le premesse di un progresso perché il progresso nasce da una insoddisfazione, non da un'anima quietata all'interno di una protezione di idee che vengono mitizzate per renderle forti, persuasive e alla fine forse anche un po' dittatoriali. Questo libro sui miti d'oggi ipotizza anche che il mito sia un'idea malata, la malattia delle idee consiste innanzitutto nella loro assolutezza, nella loro mancata problematizzazione. Il problema è che ciascuno di noi vive all'interno di un agglomerato di idee che di solito si chiamano visioni del mondo e la visione del mondo mi in qualche modo fa pensare secondo le sue modalità e se io ho una visione del mondo sbagliata è ovvio che sto male, perché non si sta male solamente perché le emozioni ci creano dei disturbi, degli insulti, delle pulsioni, come è nel caso della psicanalisi, ma si sta male anche proprio e soprattutto perché si hanno idee sbagliate, idee che non sono congrue con la realtà, idee che sono troppo rigide, idee che non prevedono la flessibilità a cui ci invita la vita contemporanea, idee di noi stessi che sono costruite più sull'immagine che ci siamo fatti che sulla realtà perché ci manca il confronto, il riconoscimento, l'identità e allora queste idee vanno curate, bisogna curare le idee come la psicanalisi si è impegnata nel secolo scorso a curare le emozioni, perché oltre alle emozioni ci sono anche le idee che ci fanno star male, questa è stata anche la ragione per cui ho introdotto in Italia la consulenza filosofica che è una cura delle idee, accanto alla psicanalisi che cura le emozioni, probabilmente il nostro tempo è un tempo che ha grande bisogno di cura delle idee, perché sulle emozioni si sono buttati tutti, si sono buttati mass-medium, si sono buttati i desideri giovanili che hanno bisogno di emozionarsi, si è buttata persino la chimica che con l'estasi crea emozioni, quindi sulle emozioni c'è già un grande repertorio, sia nella forma della seduzione, della fascinazione, della sollecitazione e anche della cura, sulle idee non se ne occupa nessuno, ma siccome anche le idee ci fanno star male, correggiamole, tante volte è sufficiente mettere in ordine le proprie idee, fare una gerarchia di quali sono le importanti e le meno importanti, stabilire la differenza di ciò che è decisivo nella nostra vita, al di là dei luoghi comuni e di ciò che è propriamente mio rispetto al modo generalizzato di vivere, una sorta di processo di individuazione attraverso la demitizzazione di idee rigide. Il libro si divide in due parti, i miti individuali e i miti collettivi, i miti individuali sono quelli che uno si costruisce per trovare una propria identità, tali sono per esempio il mito dell'amore materno, il mito della giovinezza, il mito della felicità. I miti individuali sono molto forti, perché mettere in questione un mito individuale significa mettere in questione la propria identità, che è cosa a cui difficilmente si è disposti, ma è un'identità che non si mette mai in questione, è un'identità che non si modifica e siccome la vita ci modifica, queste idee fisse, non modificate, finiscono per costituire una sorta di arresto della propria crescita, sono molto più forti i miti individuali dal punto di vista della loro disponibilità ad essere modificati. I miti collettivi invece sono miti che investono l'intera società, tali sono il mito del mercato, il mito della crescita, il mito della guerra, il mito della psicoterapia, perché dobbiamo per esempio considerarci così vulnerabili di aver bisogno di cura e assistenza ad ogni peso spinto, è come se avessimo messo da parte l'idea che siamo mortali e l'ansia di sopravvivenza in termini di massima felicità ci fa curare da tutte le parti, per cui viviamo una vita più da malati che da sani. I miti collettivi sono più facilmente modificabili, perché la gente sente pareri diversi, non solo comune a tutti i miti collettivi, riguardano le appartenenze politiche, riguardano la partecipazione a idee liberiste piuttosto che comunitarie, riguardano la letteratura e i romanzi che hanno per esempio mitizzato sempre la guerra da Omero fino ai giorni nostri, quando invece è carne e sangue e disastri esistenziali. Questi miti sono più facilmente modificabili, però nella misura in cui noi oggi siamo dipendenti dai media, nella misura in cui oggi noi dipendiamo da quanto mediamente viene detto in un pensiero sempre più acritico, finisce che questi miti individuali vengono concepiti come la realtà, quando invece sono semplicemente la raffigurazione della realtà e quindi quella dimensione che io non faccio fatica a dire, come configurazione di un pensiero unico, un pensiero un po' totalitario, perché se tutti pensiamo allo stesso modo e per giunta magari sentiamo allo stesso modo, va a finire che diventiamo un popolo gregge che desidera solamente un capo che lo governi, mi pare che ci stiamo avviando, sonnecchiamente in questa direzione. Questo libro svolge effettivamente un ruolo di critica nei confronti del mito, però bisogna assumere la parola critica nel suo significato originario, criticare non vuole dire demolire, una parola critica viene dal verbo greco krino che vuole dire giudico, allora criticare significa assumere un giudizio, incominciare a giudicare le nostre idee e giudicare i nostri pensieri e se si evita questa funzione si abdica alla dimensione dell'uomo, la dimensione dell'uomo è quella di giudicare, è chiaro che ogni giudizio ci mette in crisi, perché il giudizio prevede la problematizzazione delle idee stantie e abituali con cui abbiamo condotto la nostra vita e siccome il nostro io, lo dice la psicanalisi opportunamente, è conservatore, è disposto a cambiare tutto fuorché le proprie idee, quante volte abbiamo sentito i nostri vecchi, i nostri padri dire questi sono i miei principi, quando la solidità di quei principi erano solo le abitudini delle loro idee, allora che cosa succede a questo punto? Che se vogliamo essere uomini all'altezza dell'essenza umana non dobbiamo evitare la dimensione della critica, ovvero del giudizio e quindi della messa in crisi delle nostre idee, alle idee piacciono le crisi, le idee amano il mutamento, siamo noi invece che tendiamo più alla dimensione abitudinaria che alla dimensione del giudizio e quindi della crisi, senza giudizio e senza crisi naturalmente non ci sono neanche scelte, la scelta è l'effetto di un'idea revisionata, messa in crisi, giudicata. Per il mito individuale potremmo dire che il più insidioso è il mito della felicità, inteso nel senso che la felicità noi la assumiamo nella forma di una euforia, gioia ed esaltazione perenne, quando invece i greci ci hanno insegnato che la felicità è nella giusta misura, che consiste nel conoscere se stessi e le proprie virtù, farle fiorire nella giusta misura, perché se oltrepassi la giusta misura vai incontro alla catastrofe, mentre noi stiamo diffondendo un mito di felicità che consiste appunto in una gioia sconfinata, in un'assenza totale di dolore e quindi in una sorta di euforia senza nessun accompagnamento di crisi o di riflessione. Il mito della felicità è un mito molto propagandato che si accompagna a quell'altro mito, che è il mito della giovinezza. Siccome non speriamo più in una felicità ultraterrena e siccome crediamo sempre meno nell'immortalità dell'anima, tutte le virtù che la religione aveva consegnato all'anima vengono oggi consegnate al corpo. Il mito della giovinezza prevede infatti dei corpi sempre giovani, quindi palestre, quindi di diete, quindi lifting, quindi cura del corpo esattamente nella riproduzione rigorosa della cura dell'anima. Le diete stanno al posto dei digiuni, gli esercizi fisici al posto degli esercizi spirituali e questo procura una scissione tra l'io e il mio corpo, determinando la quale non coincido più con quello che sono e tratto il mio corpo come un manufatto, come qualcosa che mi deve rappresentare, che devo costruire, mai soddisfatto dalla mia generazione, del mio essere stato generato così come sono e mai soddisfatto dell'evoluzione che la vita prevede. Il Levitico per esempio dice onora la faccia del vecchio, penso che sia stato un messaggio completamente dimenticato perché oggi funzionano solo i corpi giovani e quelli che disperatamente continuano a voler essere giovani, creando solo della comicità e manifestando una debolezza di una non appropriazione della propria vita. Per i miti collettivi invece il più pericoloso è una sorta di triade che sono rispettivamente il mito del mercato, il mito della crescita e il mito della guerra, a cui si può accompagnare il mito della tecnica, ma su questo ho già scritto un altro libro e quindi la cosa è in qualche parte nota, dico crescita, mercato e guerra perché noi occidentali possiamo sopravvivere alla sola condizione di difenderci dal resto del mondo. Questa difesa per noi è essenziale, nel senso che siccome consumiamo l'80% delle risorse umane, delle risorse della terra e siamo solo il 20% della popolazione, va a finire che per conservare i nostri privilegi dobbiamo difenderci dal resto del mondo e siccome le riserve sono nel resto del mondo, dobbiamo attaccare il resto del mondo per guadagnare il nostro privilegio. In questa triade crescita che deve essere sempre al positivo, mercato che diventa regolatore di tutti i rapporti, facendo sì che il denaro diventi l'unico generatore simbolico di tutti i valori, per cui non sappiamo più che cosa è bello, cosa è vero, cosa è buono, cosa è giusto, ma solo che cosa è utile e soprattutto guerra come forma violenta di quell'accaparramento subdolo che avviene in tempo di pace, per cui in qualche modo tra la guerra e la pace c'è solo un differenziale di violenza tipico della nostra cultura. Questo mito, questa triade di miti è forse la più pericolosa e anche perché è la più connaturata con la nostra psicologia collettiva di occidentali, appartenente ad una civiltà della potenza e quindi è la più difficile da sradicare, naturalmente non credo che questo sradicamente avverrà attraverso una nostra correzione, avverrà sulla base della necessità delle cose, perché quando i sistemi sono molto squilibrati e allora questi squilibri alla fine esplodono e sarà il resto del mondo a riconturci alla giusta misura se prima non lo facciamo noi.